Un collega e un poliziotto Vedi Agnese io so, ho sempre saputo Che questo paese è pieno di gente che se ne fonda Abituato a portare la testa dall'altra parte E anche tra i colleghi non tutti sono le santi Ma venduti no Collusi no Io so chi ha ucciso Giovanni e perché Ma non so se avrò il tempo per dimostrarlo capisci E quando succederà a me Sì Agnese quando succederà a me Allora veramente sarà stato tutto inutile Perché finirà tutto Ma loro no Inciutano E verranno vivi al posto di comando Allora 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 Sono morti per noi E abbiamo un grosso debito Il resto di loro Questo debito Dobbiamo pagarlo Gioiosamente Continuando la loro opera Rifiutando di trarre dal sistema mafioso Anche i benefici che possiamo trarne Anche gli aiuti Le raccomandazioni I posti di lavoro Facendo il nostro governo La lotta alla mafia Il primo problema da risolvere Nella nostra terra bellissima e disgraziata Non doveva essere soltanto Una distaccata opera di repressione Ma un movimento culturale e morale Che coinvolgesse tutti E specialmente le giovani generazioni L'è più adatto E sentire subito la bellezza Del fresco profumo di libertà Che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale Della indifferenza Della contiguità E quindi della complicità Ricordo la felicità di Falcone Quando in un breve periodo di entusiasmo Egli mi disse La gente fa il tifo per noi E con cione mi intendeva Riferirsi soltanto al conforto Che l'appoggio morale della popolazione Dà al lavoro del giudice Significava qualcosa di più Significava soprattutto Che il nostro lavoro Stava anche smuovendo le coscienze Stava anche smuovendo le coscienze Stava anche smuovendo le coscienze